Avevamo fatto una promessa e l'abbiamo mantenuta. La prossima settimana sul sito della regione siciliana saranno pubblicati i primi due bandi del PSR 2014-2020 destinati al sostegno, alla promozione e alla certificazione dei nostri prodotti di qualità. Le aziende siciliane che tra qualche settimana parteciperanno al Vinitaly potranno già sfruttare questa opportunità. Lo ha detto l'assessore all'agricoltura Antonello Cracolici durante la presentazione dei primi due bandi del nuovo PSR che si è svolta ieri a Palermo. All'iniziativa hanno partecipato anche le aziende siciliane del settore vitivinicolo che saranno presenti al prossimo Vinitaly. La misura 3.2, 8 milioni di euro, prevede spese ammissibili con un contributo fino al 70% che riguarderanno principalmente la promozione dei prodotti siciliani di qualità. Potranno essere finanziati, ha detto l'assessore, grafica, redazione testi, cartellonistica, opuscoli, video, progettazione alle attività di comunicazione, degustazioni, partecipazione alle fiere, pubblicità sui giornali cartacei e per la prima volta in questa nuova programmazione anche nelle testate online. La promozione, ha specificato Cracolici, deve riguardare i prodotti, non i marchi commerciali. La seconda misura 3.1, 3 milioni di euro, ha proseguito l'assessore finanzia le spese per ottenere le certificazioni di qualità, DOC, DOP, BIO e IGT e prevede un finanziamento al 100% con un massimo di 3 mila euro all'anno per cinque anni fino a 15 mila euro, ha aggiunto l'assessore regionale all'agricoltura. Per snellire le procedure, le associazioni di produttori adesso potranno anche presentare richieste di certificazione collettiva per i propri iscritti. Si tratta di un criterio inedito che abbiamo inserito, dice ancora Cracolici, ha lo scopo di favorire e velocizzare l'accesso ai sistemi di qualità. Raccontare la bellezza dei prodotti siciliani significa promuovere i nostri punti di forza, ha concluso Cracolici in occasione del prossimo Vinitali al Padiglione 2 che ospita la Sicilia. L'11 aprile promuoveremo un importante evento con Oscar Farinetti e, conclude ancora, Cracolici, Fabrizio Carrera sul vino siciliano, bellezza e narrazione. Grazie a tutti.